Come avrei pensato di andare a lavorare alla piaggia? Proprio per il diploma, ci sono anche la piaggia, i laboratori, però per i periti chimici sono proprio limitati i posti. Dopo aver fatto un'esperienza di lavoro in Canada, dove ho imparato la lingua inglese, che è stata fondamentale nella mia esperienza a piaggio, sono tornato in Italia, anche spaventato da un inverno terribile in Canada, che già mediamente sono freddi, ma quell'anno lì era stato terribile, per cui sono tornato in Italia, ho detto vedo se trovo lavoro, se non trovo lavoro torno in America. E invece dopo aver fatto domande, ho detto dove potevo mettere in pratica il mio diploma, ho fatto anche la domanda alla piaggia. Prima era l'ultima soluzione, poi me ne sarei tornato via, me ne sarei andato via. Sono stato convocato, mi hanno detto che per quanto riguardava il mio diploma non c'erano aperture sul momento, però forse erano interessati più dalla conoscenza della lingua inglese che non dal resto, mi hanno detto che c'era una possibilità di entrare nel reparto motori come operaio. e al che ho detto ho accettato, ho detto casomai un giorno me ne vado. E ho accettato e sono entrato alla piaggia nel 1974 nel collaudo motori, come collaudatore. Il reparto motori è un reparto nel quale si costruivano e si costruiscono i motori nuovi, e dove si revisionano i motori e dove si riparano i motori. Per cui si lavora sotto licenza straniera, americani e inglesi, per cui i manuali sono tutti in inglese. Chi lavorava, lavorava con delle tracce in italiano, ma erano tracce però, allora non erano istruzioni dettagliate. Per cui sono stato vantaggiato anche da quello. Ho fatto alcuni anni nel collaudo, sono diventato caporeparto del collaudo, dopodiché nei primi anni 80 si doveva motorizzare il velivolo Mangusta con i motori Gem della Rolls-Royce, quindi un motore mai visto, un motore che si dava come sofisticato, come difficile, per cui non so perché, il mio capo mi ha proposto a capo di quella squadra lì che avrei montato, quindi passavo dal collaudo alla produzione. Cambiavo totalmente aspetto sul lavoro, e in quel periodo mi ha dato molta soddisfazione comunque. Si lavorava con del personale inglese, che ci davano delle dritte, si lavorava su istruzioni in inglese, a quel tempo non c'erano problemi di orario, era una squadra meravigliosa, abbiamo avuto molte soddisfazioni. Il rapporto tra produzione e collaudo poteva essere di 5 a 1. C'era una squadra del collaudo che si occupava esclusivamente di controllare i motori che erano rientrati per riparazione o revisione, erano stati smontati, per cui venivano sottoposti ad un controllo minuzioso dei particolari, per stabilire se i particolari erano idonei al riempiego, se erano riparabili, se difettosi riparabili, oppure se avevano raggiunto la loro vita limite, anche se apparentemente buoni e integri, venivano buttati via. Per cui veniva fatto tutto un rapporto secondo il quale i pezzi venivano giudicati. Per cui con questo rapporto di collaudo i pezzi da riparare partivano per le officine, per essere riparati, e i pezzi scartati dovevano essere reintegrati dalla logistica con dei particolari nuovi. Quando il motore aveva di nuovo raggiunto tutti i suoi pezzi da riempiegare, passava alla linea di montaggio, di riassemblaggio. Si lavoravano i motori, il Viper 11, licenza Rolls-Royce, il Viper 526, licenza Rolls-Royce, l'ultimo dei Viper, il Viper 632, sempre licenza Rolls-Royce, e poi c'erano i motori ex Lycoming, che poi cambia nome, che passò anni, erano i T53, T55, erano organizzati per squadre, c'erano le squadre che si occupavano dei motori Rolls-Royce, i Viper, e c'erano le squadre che si occupavano dei motori Lycoming, T53, T55. Le professionalità erano analoghe, però il motore era suddiviso in subassiemi. C'era chi si occupava del montaggio delle scatole, c'era chi si occupava del montaggio delle parti rotanti, c'era chi si occupava delle parti statoriche, cioè in vari subassiemi. Per ciascun subassieme c'erano degli operai che si occupavano del rimontaggio. Il rimontaggio veniva eseguito secondo delle istruzioni ben precise, veniva regolarizzato anche secondo dei tempi ben precisi, infatti per ogni lavoro c'era una bolla di lavoro, e poi c'era un tempo assegnato e poi ognuno che ci lavorava doveva firmare il tempo impiegato. Da noi passavano dei particolari che venivano assiamati e che dovevano portare in volo della gente e questa era una responsabilità molto grande. e io il giorno in cui sono uscito dalla piaggia, quando ho varcato il cancello, io non nascondo che mi sono fatto il segno della croce, perché non mi era successo niente, per fortuna, di nostra responsabilità. Giusto per farle capire il perché ne eravamo orgogliosi. Siamo orgogliosi anche perché c'erano delle responsabilità. I singoli operai che assiemavano i vari subassiemi, ogni operazione che facevano la timbravano, il timbro era personale. Quando arrivava in piaggio la notizia di un velivolo caduto e che portava uno dei nostri motori, posso dire in modo volgarmente, se ci cagavamo addosso, era una rincorsa per andare a vedere la cartella del motore e chi aveva montato il motore. Se non ci arrivavano prima i militari. Questo è per far capire lo spirito con cui si lavorava la piaggia. Un velivolo, un velivolo tipo la pattuglia acrobatica o tipo il mangusta, sono velivoli prestigiosi e quindi il sapere che noi ci avevamo messo le mani, ma era motivo d'orgoglio. Non so se riesco a trasmettere questa... E' questo il motivo che ci dava tanta soddisfazione, anche se eravamo poco remunerati. ma questo. Però credo che nessuna paga alta ci avrebbe dato soddisfazione. Sarebbe stata sempre una rincorsa. E' il lavoro in se stesso che dava soddisfazione. Questo motivo di orgoglio lo provavamo specialmente in occasione dei passaggi della pattuglia acrobatica dove i velivoli montavano dei motori che erano passati tutti da noi. Noi avevamo visto i singoli particolari dal bulonetto ai dischi turbina e vedere passare e sentire il rumore di questi velivoli e quindi dei dei motori. Non nascondo che ci facevamo provare delle emozioni. Quando sono entrato negli anni 70 direi che era il momento di attività maggiore del reparto motori. C'erano linee di dimontaggio sia nel Viper dei motori Rolls-Royce e quei laicomi in cui uscivano tanti motori ogni mese ma tanti. E questo durò fino a direi a quasi tutti gli anni 80. Poi poi cominciò a calare la produzione poi cominciarono i tempi della crisi per cui la difesa stanziava meno soldi. Con meno soldi i velivoli volavano meno. Avevano ridotto di brutto le ore. Per cui volando meno rientravano meno motori. E rientrando meno motori c'era da ridurre personale. Molti dei nostri operai passarono ad altri reparti. Da lì cominciarono proprio un po' a degradare fino agli anni 90 dove si andò in crisi piena. Non mi dico, da sera 1994 si mandavano in cassa integrazione quasi tutta l'azienda. E questo arrivò come una notizia improvvisa. Mi arrivò la telefonata del direttore che mi diceva senti qui vanno tutti in cassa integrazione. Rimani tu e sceglimi due persone. Una della linea Viper e una della linea delle turbine Laicomi. Passai dei momenti di panico perché mi sembrava una scelta difficilissima anche rispetto a chi sarebbe rimasto fuori. Ma mi disse il mio direttore devo dare dieci minuti non oltre perché devo comunicare. E allora scelsi due nomi. Li comunicai tanta gente non esitò a manifestarmi dalla sua televisione. I due si chiedevano come mai loro. Gli ho detto ragazzi poi ne parliamo oggi è proprio una giornata e fu una giornata tragica quella lì tragica perché non si sapeva quanto la gente sarebbe rimasta in cassa integrazione. Volevo precisare che abbiamo tenuto il reparto motori aperto anche per volontà dei militari perché i motori erano di loro per cui per qualunque evenienza per qualunque necessità per qualunque urgenza loro avrebbero trovato comunque dalla gente che poteva affrontare l'argomento oppure andare addirittura fuori nei campi dove c'era bisogno. Questo era il motivo. E affrontammo l'inverno l'inverno senza riscaldamento al freddo il tempo l'avamo occupato nell'aiutare il personale della Piaggia a fare gli inventari gli inventari di tutti i magazzini di qualunque cosa per cui fu un'attività di questo genere non non fumo impiegati per lavori tecnicamente nostri dunque quelli lì erano già periodi in cui la Piaggia era in crisi per cui i nostri dirigenti avevano un po' sconvolto quelle che erano le mansioni degli operai fino a quegli anni lì gli operai erano 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 dedicati a specifici compiti non facevano altro tanto tanto il volume di lavoro era 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 notevole quando invece il lavoro calò i motori che rientravano erano erano di numero inferiore si obbligarono a rendere gli operai il più versatile possibile quindi quindi quelli che si occupavano di pallettare dei dischi dovevano occuparsi anche anche delle parti statoriche di montare il motore come assieme e questo fu un passaggio abbastanza abbastanza difficile anche da da fare superare agli operai stessi e anche i sindacati che dicevano questi qua roba però queste erano le direttive e per quanto riguarda il passaggio di proprietà non è che non è che nelle officine lo sentissimo sulla nostra pelle sapevamo questo ma per noi il lavoro continuava non era era sempre lo stesso Gli ultimi anni gli ultimi anni li trascorsi come come caporeparto viene per ogni cosa viene il suo tempo incominciavo a essere vecchio cioè e quando uno diventa vecchio non c'è niente da fare in qualche modo tutto viene accantonato il direttore preferisce parlare con i più giovani e così via però però arrivai fino fino alla fine con con il mio lavoro che ho sempre seguito senza risparmiarmi si erano ampliati anche i compiti il reparto macchine dove venivano fatte le riparazioni dei pezzi e il reparto galvanica dove venivano fatti i trattamenti superficiali sui sui vari particolari quindi tutto tutto questo era il reparto volevo voglio aggiungere un episodio che era significativo per quanto riguarda la solidarietà che usciva fuori in certi momenti perché come in tutte le aziende con delle persone ci si litiga non ci si va d'accordo con tante si creano delle grandi amicizie poi succedono dei momenti in cui esplode la solidarietà e lì si vede proprio l'affetto verso l'azienda se non sbaglio nel 2002 il torrente che è adiacente allo stabilimento esondò ed esondò anche all'interno dei capannoni e fu il panico perché in terra c'erano pezzi preziosi c'erano e tutta la gente è tornata la sera per aiutare per mettere su per salvare i salvabili e quella è stata un'altra giornata che ricorderò sempre tutti quanti sono subvenuti non tutti quanti tutti tutti quelli che erano possibile sono tutti venuti dentro per dare una mano come attività sociale era l'unica medio grande azienda della provincia di Savona quindi nonostante qualcuno potesse parlarne male la mancanza della piaccia credo che si senta finale specialmente di questi tempi grazie a tutti